Ragazzi, bentornati. Io sono Dacon e questo è il secondo episodio della mia serie su Minecraft. È notte, quindi direi che la cosa più importante da fare è assolutamente dormire, prima che spawnino una miriade di mostri. E ragazzi, oggi andremo a costruire un mob spawner, perché alla fin fine, secondo me, è una cosa carina da fare. Qui abbiamo il nostro bellissimo ferro con cui faremo assolutamente un'armaturina, perché senza armatura mi sento nudo. Ecco qui, l'armaturina fatta, niente male. Poi direi che possiamo craftare un po' di panini, abusiamo di questo menu che ci è stato dato, ecco qui, e poi direi che ci prepariamo due secchi, perché andremo a fare un mob spawner vecchio stile, dato che non so assolutamente come siano i nuovi mob spawner, io lo faccio in vecchio stile, molto tranquillo. Allora, di materiali per ora non è che ci serva chissà cosa, il mob spawner dovrebbe essere in quella direzione, e noi andiamo di là. Per chi non l'avesse visto lo scorso episodio, e vi invito a farlo, abbiamo trovato un mob spawner di zombie, e ora appunto andremo a trasformarlo in una farm di XP e drop. E qui c'è un alberello che direi che possiamo anche tagliuzzare con molta felicità. Intanto il panorama è qualcosa di pazzesco, qui abbiamo un laghetto di lava che sicuramente fa comodo, fa comodo, perché comunque tra un po' vorrei andare nel nether, non mi sento ancora pronto, ma ho questa idea di andare nel nether, quindi... eccolo lì! Lì c'è lo spawner, o per meglio dire, non a quell'altezza però purtroppo. Dobbiamo scavare. Allora, lo spawner si trova in questo punto, però mi sa qualche centinaio di blocchi più in basso. Trovandosi in questo punto dobbiamo fare uno, due, tre, quattro, cinque, e scavare qui. Questo perché? Perché così diciamo che ci prepariamo già al fatto che non dobbiamo rifare 300 volte la stessa salita, il che appunto sarebbe noioso. Qui infatti ci sarebbe il muro dello spawner, come potete ben vedere, e qui appunto si scende e andiamo a mettere... Facciamo così? Ok. Molto bene. In questa direzione. L'unico problema che effettivamente potremmo avere è il fatto che non abbiamo, mi sa, abbastanza scale. E per non abbiamo, intendo che sicuramente non abbiamo abbastanza scale. Quindi adesso andiamo a tagliare un pochino di legno. Questi anfratti sono davvero carini. Cioè, fanno una sottospecie di scogliera, per così dire. Questo seed è davvero bellissimo. Non mi sarei mai aspettato di avere un seed così bello. Non so se abbiano cambiato qualcosa con la generazione del mondo, ma tutt'altra cosa in confronto al vecchio Minecraft, per così dire. Premetto che comunque è da un bel po' di versioni che non gioca Minecraft. Quindi alcune cose potrei non saperle. So che hanno aggiunto un sacco di cose interessanti e che spero che scopriremo lentamente insieme. Qualc'altro uovo? Lì c'è un altro alberello. Ok. Prendiamo questo alberello e guardiamo un attimino cosa c'è qui, perché... Ho visto qualcosa? Un scheletro, ecco cosa ho visto. Uno zombie, un altro zombie. Uno scheletro, ciao. Allora interessante, pericoloso soprattutto. Ok, allora, prendiamo il legno, lo trasformiamo, direi tutto, ma sì. Trasformiamo tutto in scale. 51, speriamo bastino. Lo iniziamo a mettere e poi scendiamo. Non male, non male, il ferro. Sempre ben accetto. Assolutamente. Non penso che mi basterà il piccone, purtroppo, perché... Mi sa che qui l'abbiamo finito. Infatti. Va bene, si ritorna già su. Se per questo non basta nemmeno il legno. Allora, direi che in verità possiamo anche togliere questa robetta qui. Ok, lasciamo soltanto... questo pillar. Mi riprendo la crafting e vado assolutamente a scavare altri alberi. Non voglio scavare quegli alberi qui, sono scomodi. Direi di fare una capatina a casa, così facciamo l'utensile in ferro. Che mi son dimenticato, purtroppo. Ok, per fortuna abbiamo una foresta vicino a casetta. E quindi direi subito di scavare. Per prendere un po' di legno. Ok, sto tornando nuovamente la notte, ma noi... Non abbiamo problemi perché siamo qui vicino a casa. Direi solo di cuocere quest'altro ferro. Prendere... Quello che ci avanza da qui. Craftiamo... un po' di stick. E allora facciamo, direi, due picconi. Perché no? E un'accetta. Così almeno stiamo belli tranquilli. Buttiamo via... Ma sì, ma facciamo... Ma spendiamo questo ferro e facciamoci anche la pala. Ok. Depositiamo il ferro che è avanzato. E anche questo. Ok, allora... Crafting. Stick. E ecco qua. Altre scale. Ci portiamo la crafting perché non si sa mai. Però... Forse ora dovrebbero bastare. Oh! Eccoci! Eccoci! Ho fatto bene? Sì! È giustissimo! Quanto sono forte! Ok. Allora... Siamo arrivati. Piazziamo dei blocchetti qua per ovviamente chiudere il tutto. Perché comunque non è che vogliamo esporci estremamente. Qua andiamo a scavare. Perché è quello che ci interessa. Direi che comunque qualche torcina qui male non fa. Oh! Ma ci sono... Ma quanti diamanti ci sono! Ma io in questo posto ci sono passato. Sì, per forza. Se c'è una mia torcia impazzisco. No, questa... Cioè, me la ricordo benissimo la doppia fonte. Quante volte ci sarò passato da me? Eh, quanti zombie ci sono. Ma neanche il mio spawner qua. Sì, qua è dove sono... Stato diversamente vivo. Pazzesco! Ci sono un sacco di diamanti. Vabbè, io non mi faccio problemi a prendere un sacco di diamanti. Assolutamente. Aspettiamo che vada via il flusso di lava. Giusto per essere sicuri che non cadano... Giusto per essere sicuri che non ci cadano dentro. E qua cosa abbiamo invece? Niente. Se qua adesso si toglie la fonte e ci sono degli altri diamanti, impazzisco. Intanto raccogliamo questi qua. Quanti diamanti sono? Uno. Due. Tre. Quattro. Io... Molto felice. Molto felice. Quattro diamanti... Mica male. Qua invece... Più di uno, più di uno, più di uno. Niente. Solo un diamante, eh. Cioè... Peccato. Peccato. Io ci spero. Io ci spero. Io ci spero. No. Niente diamanti. Peccato. Però... Cinque diamanti... Non male. Devo dire non male. Wow. Sono sceso per fare lo spawner, ho trovato dei diamanti. Ok. A questo punto il problema di quest'area non è tanto questo, ma tanto il fatto che... L'ho piazzato io e ho detto c'è un altro spawner. Ok. Questo spawner ora lo dobbiamo trasformare. Quindi andiamo a... Togliere tutti questi blocchetti qua che... Non servono. L'allarghiamo abbastanza da poter mettere l'acqua, così... L'acqua spingerà gli zombie in un buco. Dove ovviamente cadranno. E noi... Li uccideremo. Qua è da dove sono salito? Quanta roba. Così quanti diamanti abbiamo? Tipo... Dieci? Qualcosa del genere? Devo dire niente male. Un piccone ci scappa. E magari anche qualcos'altro. Ok. Le mura sono finite. Ora dobbiamo pensare a scendere con il pavimento e qui... La situazione si fa un po' più ostica, però... Ce la facciamo andare bene. Ok. Qua andiamo a chiudere. In questo modo. E qua si scende almeno di tre. Il piccone non resisterà. Però... Pazienza. Ne abbiamo un altro. La mossi cobblestone è davvero bellissima. Sicuramente la sfrutteremo in qualche struttura. Al 100%. Per fortuna si può fare... Piazziamo qualche torcia che non si sa mai che qui... Lo spawner spawna un po' come vuole lui. Faremo una farm molto semplice in verità. Quindi niente di estremamente complicato. Ma molto semplicemente andremo a fare un punto in cui droppano sotto lo spawner. E poi un punto dove li uccidiamo. Se riuscissimo anche ad ottenere dei magma block potremmo essere in grado di farla completamente automatica. Quindi senza problemi di sorta. E trasformarle in una drop farm di... Carne marcia, ferro, carote, patate e altre cose in teoria. La deep slit sembra davvero un bel blocco. Probabilmente lo utilizzeremo perché... Mi pare davvero carino come blocco da usare. Poi si vedrà. Un po' meglio ma... Assolutamente approvato. Penultimo strato... Finito. Ora passiamo all'ultimo strato che dobbiamo scavare. Ok. Strato finale completato. Ed eccoci qua. Questo dovrebbe essere il risultato. Ragazzi, non fatelo con uno strato in meno. Mi raccomando, anche se è possibile farlo, se gli zombie arrivano qui e iniziano a saltellare per qualche motivo, non cadranno. Quindi vi sconsiglio di farlo così. Abbiate la pazienza di scavare tre blocchi sopra, tre blocchi sotto e così sarete sicuri che il mob spawner funzionerà al cento per cento. Però il problema è che mi sono dimenticato l'acqua e quindi adesso vado a prenderla. Sperando che le scale bastino perché effettivamente non so se le scale basteranno. La risposta più probabile a questa domanda è no. Maledizione. Facciamo così. Olè. Eh. Parkour. Ne crafto un po' di più che male non fa alla fine. Ci potranno tornare utili. Le scale. Ok. Riprendiamo. Anche le scale sono completate. Saliamo un po' di più. Siamo fuori. Ed è notte. Male. Mettiamo qui delle torci innanzitutto e poi due secchielli. E si scende di nuovo. Ragazzi mentre che scendiamo lasciate un bel like per supportare il canale. Eccoci qua. Allora. Molto semplice. Creiamo una fonte d'acqua infinita. Quindi in questo modo qui. Dopodichè. Uno. Due. Tre. Prendiamo. I secchi. Ok. Se avete fatto tutto correttamente. Qui. L'acqua confluirà in questa maniera. E semplicemente gli zombie cadranno in questo punto. Ora. Per farli cadere in verità non è che qui ci mettiamo a fare chissà che calcoli. non mi interessa farli morire con danno da caduta per il semplice fatto che non ho questo interesse quindi scendiamo di 1, 2 mi raccomando anche qua non siate pigri come sono solitamente io quindi non fateli scendere magari solo di un blocco perché potrebbe ostruire quindi dovete farli almeno scendere di 4-5 blocchi così che almeno otteniate un'altezza decente ecco qui, in questa maniera adesso qui dobbiamo scavare vediamo se riesco a farla a memoria ok, dovrebbe trovarsi qua sopra ecco fatto allora in verità questo punto non è il punto d'arrivo di questa scala però per il momento giusto anche per controllare se funziona lo utilizzeremo in questa maniera allora delle slab andiamo a mettere mmm, ho paura dei mini zombie quindi fa... ho fatto una cosa un po' storta per i mini zombie facciamo così ok torniamo qui sopra ed ecco in teoria lo spawner così è finito quello che noi dobbiamo semplicemente fare aiuto no, mi sta trascinando ok quello che dobbiamo fare semplicemente è togliere le torce quindi torcia qui torcia qui torcia qui e stanno già spawnando ok stanno cadendo noi prendiamo qua dei blocchetti chiudiamo ed ecco qui lo spawner ed è finito purtroppo non ho una spada attualmente quindi ci accontentiamo di ammazzarli con l'accetta però ecco qua qui lo spawner è praticamente finito ora potrei anche far così ok c'è da mettere assolutamente un hopper però direi che funziona più che bene più che bene certo magari non è troppo conveniente a livello di ferro per il momento però beh non c'è che male ok la farm ragazzi così è finita si torna sopra con la mia assoluta felicità questa farm può funzionare anche per soffocamento per i magma block volendo se la volete rendere automatica o per altre cose che però purtroppo ora non abbiamo quindi non andrò a fare e non ho nemmeno abbastanza ferro per fare la raccolta dei materiali quindi attualmente lo lasciamo un po' così grezzo sicuramente più avanti lo sistemeremo ed eccoci nuovamente fuori più o meno ecco allora adesso volevo andare a fare un campo coltivato perché effettivamente è una pacchia con le pagnotte che abbiamo preso in prestito ai villager però c'è da dire che finiranno e sinceramente io preferirei trovarmi pronto con un bel po' di carote qualche stack di carota già pronto lì in disparte o la mia collina preferita ci sono anche coniglietti raccogliamo gli alberelli che non si sa mai qui ci potrebbero servire ok rieccoci allora qui andiamo a buttare questa robetta qua abbiamo dieci diamanti sì 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 dieci diamanti sono felicissimo di averceli e sicuramente ne voglio un po' di più però è buono per essere il secondo episodio devo dire allora cosa andremo a coltivare nel campo come vi ho già detto nel primo episodio quello che tutti gli uomini che giocano a minecraft vogliono le carote assolutamente carote H il cibo degli dei ragazzi allora per piantarle però abbiamo bisogno di una zappina quindi ce ne andiamo a fare una in pietra perché non ho il ferro eh purtroppo bisogna tornare già in miniera no mi sono mangiato la carota vabbè un po' eh scusate è un riflesso istintivo quando ho delle carote nell'inventario le devo mangiare allora per non saperne leggere né scrivere comunque lo faccio leggermente lontano dalla mia base questa zona sembra quasi fatta apposta quasi fatta apposta ragazzi ok puliamo un pochettino quest'area qua così almeno ci allarghiamo un pochetto togliamo questi fiorellini e ora ecco qua 1,2,3 e 4 molto bene facciamo 1,2,3,4 a tutti i lati ho sbagliato ok allora continuiamo con tutto il campo in questo modo qui la zappa forse ci basterà giusto per due campi no non credo la zappa non ci basterà per due campi male ci allarghiamo di nuovo anche da questo lato 1,2,3,4 andiamo a piazzare no qui bene ok ecco qua potrei aver leggermente missato leggermente adesso devo saltare anche su queste ok mi serve un'altra zappa ok ecco qui una zappa ok e anche il secondo campo è finito è finito anche se non abbiamo assolutamente le carote per mettere quindi le mettiamo soltanto di qua a questo rinflesso incondizionato nel mangiare carote peccato che non abbiamo trovato uno spawner di scheletre avremmo potuto fare direttamente qui il campo però ci accontentiamo lo spawner di zombie può aiutarci a fare qualche smeraldo in più aia che dire ragazzi vi ringrazio della visione vi invito ad iscrivervi al canale per altri video e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi